La ferma, la buciarda, la sciata! T'ho fatta male? E tu stai sempre con la testa avanti? Pensa alla salute. Guarda un po', sta la finestra? No. Dio. Dio, e te? Ma che stai facendo? Ti ha tirato un sassi. Mezza capo, c'è antipatico. Allora ogni volta che passiamo di qua, gli tiriamo i sassi. Ma non avete mica diventati bambini, no? Ma che bambini? E poi è lui che tira i sassi, mica io.